In questo modo noi cercheremo di farlo in congresso, se ci troveremo di fronte degli ostacoli vedremo il modo di superarli. Senti, ma nell'incontro con i sindacati hai trovato l'ama intransigente? Sì, ho trovato la delegazione sindacale su una posizione molto rigida. Ma la posizione di Lama corrisponde all'intransigenza del Partito Comunista? Lama ha parlato a nome di tutti in questa riunione. Il Partito Comunista, come hai visto, aveva qualche giorno fa adottato una deliberazione in cui affermava che non avrebbe fatto una crisi al buio.